Tanti gli scopi dell'Associazione della Camera Civile di Agrigento, tra questi anche quello di promuovere in tutte le sedi l'adeguamento del diritto civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile, mantenere alto il prestigio degli operatori, diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale. Ad Agrigento la Camera Civile è presieduta dall'Avvocato Antonio Cremona sin dal 1992. Io dico che l'errore del legislatore è quello di voler aggiustare la giustizia cambiando continuamente il codice e ci sono in campiere tante riforme del codice civile, del codice di procedura civile, speriamo che queste riforme non vogliano innovare tutto. La Camera Civile si è spesa per cercare di aggiustare quel danno che era stato fatto dall'articolo 9 della legge che aveva eliminato le tariffe professionali, di tutte le tariffe. Il ministro della vecchia legislatura ha fatto la legge sull'equo convenzo, questa è una legge per cui la Camera Civile si è battuta tanto, è andata a Roma e finalmente abbiamo una legge. Però come in Italia le leggi non vengono rispettate, dunque la legge c'è ma questa legge viene bypassata in maniera totale dalle banche, dai poteri forti, dalle assicurazioni. Lì dovrebbero i consigli dell'ordine, ma mi rendo conto che la forza deve venire dalla base, cioè devono essere gli avvocati e prima degli avvocati gli utenti della giustizia a battersi perché l'avvocato sia un avvocato con la A maiuscola e quindi veramente assiste il cliente. Da questo nuovo ministro, da questo nuovo vento che ispira, questo nuovo governo cosa si ci può aspettare? Fare delle profezie è sbagliato, le persone si giudicano e i governi si giudicano alla luce di candela, cioè quando avrà operato si potrà dire se ha operato bene o male. Il vecchio ministro è la giustizia per quanto riguarda la giustizia, io credo che abbia operato bene. Speriamo che questo, essendo un collega, essendo un avvocato e un avvocato che ha lavorato, non è un avvocato che ha il titolo e non ha fatto l'avvocato, sia un vero difensore. La magistratura è già detto una cosa giusta, che l'amministrazione e la giustizia viene esercitata da due funzionari della giustizia, la magistratura e l'avvocatura. Speriamo che questa affermazione di partenza rispetti i programmi e rispetti quindi un ruolo che porti la giustizia ad essere non celera ma giusta, perché una giustizia che arriva tardi è già ingiusta, ma una giustizia che ha solo l'obiettivo di essere celere ma non giusta è sicuramente ancora più giusta di una giustizia che arriva tardi.